Salve, tifosi del Milan. Oggi vi riportiamo una notizia interessante che sta facendo scalpore sui social media e sulle voci di trasferimento. Un emittente messicana sta spingendo molto affinché il Milan acquisti Santiago Gimenez, il talentuoso attaccante del Feyer Nord. TNT Sports Mexico ha aderito alla campagna in maniera molto visiva, tweetando un'immagine modificata di Gimenez che festeggia un gol mentre indossa l'attuale maglia del Milan. La didascalia dice tutto, il nove rosso nero che vogliamo, Gimenez sta bene con il Milan. Questo movimento virtuale mostra l'entusiasmo e il sostegno del pubblico messicano per questo trasferimento. Gimenez ha un eccellente record di reti al Feyer Nord, con 24 gol e 7 assist in tutte le competizioni in questa stagione. Ha 23 anni e in un momento cruciale della sua carriera e sembra pronto a fare un passo avanti. È interessante notare che l'agente di Gimenez, che è anche suo padre, è stato avvistato a Milano il mese scorso, alimentando le speculazioni su un incontro con Jeffrey Moncada, il direttore del Milan. Questo fa pensare che dietro a questo interesse ci sia qualcosa di più di una semplice voce. Tuttavia, il Feyer Nord avrebbe chiesto circa 50 milioni di euro per Gimenez. Il Milan, pur mostrando interesse, sembra più propenso a investire 60 milioni di euro per Joshua Zirkzi del Bologna. L'alternativa più economica sarebbe comunque Seru Guirassi dello Stoccarda, disponibile per una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro, piuttosto interessante. Tifosi del Milan, cosa ne pensate di Santiago Gimenez che potrebbe vestire la maglia rossonera? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Non dimenticate di cliccare sul pulsante mi piace e di iscrivervi al canale per ulteriori notizie e aggiornamenti sul Milan. Alla prossima puntata e grazie per averci seguito.